ho fatto tutto da disco, suona? ma sei serio? si schiacci il montello, ecco, e aspetta 15 secondi poi agitalo e inizia... e passa 15 secondi si va devi chiuderlo, 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 aspetta 15 secondi cioè appena sente movimento suona e qua ti avverti, che cazzo fai? ma va se la viaggia l'automoto l'unica cosa è che non ha il contamancie ah ma io pensavo la spia a quella della benzina e non ha niente, non è che quella benzina come no? ha solo riserva ma che è che il monaco è che... ma che è che il monaco è che... ma che sei? danno una multa a me e poi ci sono sti coglioni con la enjoy che la lasciano lì così in meno sembra morta andiamo figa stiamo registrando parti inutili ma complimenti eh, la moto GP mi ha fatto i tutti io ah dai che becchio mi ha fatto i tutti io ah dai che becchio ho ho no ho ho no ko mi ha fatto i due si Grazie a tutti.